Livello 4, mondo 3 E partiamo Questo si incattivisce Una stellina Ora cambio, perché sta campanella Oh, sono invisibile Cosa c'è qua? Uno scream È la pietra del sole Vai Ma c'è qualcosa di là Come faccio di là? Oh, un'altra porta Energia Se è incattivito Ecco la porta Che mi indica che c'è una pietra del sole Ok, colgiamo questo Ah, quindi devo fare questo lavoro qui Oh, un'altra porta Oh, l'ho fatta Energia Eccola Pietra del sole C'è qualcosa qua? Niente Quindi riesco da qui Proseguiamo Il problema è che ho perso Per colpa Di questo malefico Che mi rincorreva La capacità La capacità Che mi rincorreva Che mi rincorreva Eccola di questo malefico Eccola di questo malefico Che mi rincorreva Che mi rincorreva Che mi rincorreva Dopo Quindi mi rincorrevo Eccola di questo male Eccola di questo malefico Mannaggia, ora ci riprovo. E' a destra. No, ho sbagliato. Fermi, fermi, fermi. Ancora più a destra. Dopo la seconda bomba. Ci riprovo. Cambiato specialità. Specialità. Ok, la dove è qua? Ecco dov'è la stellina. Un'altra volta. Ce la posso fare? Ce la posso fare. Proprio dietro la bomba. Io pensavo che se tirassi sulla bomba mi schiantasse. Via. Dove mi porta? Ciao. Dove stiamo andando? No, no, no. No. ah li porta da capo allora facciamo il giro mi manca una stella mi manca la terza stella guarda dove mi fa riprendere mi riporto di qua mi riporto di qua mi riporto di qua e voilà finito anche il quale era questo livello qua ecco tre stelle non mi ricordo come era il livello al prossimo si va mi riporto di qua